non ho già messo i pilattici non frenate che facile che strappa qua piano piano mi ha terminato proprio la giornata insomma metti i poteri a più dai ragazzi ti amo Marisa ti amo grazie sei stato vibrato tu eh eh saluta l'olio 400 metri all'arrivo saluta l'olio ma che bella aspetta l'olio ma che bella saluta l'olio ma che bella saluta l'olio sempre più brutti sui combatti facciamo un applauso un applauso, un applauso si chiama di venire fuori il coordinamento è con tutte le donne il presidente Montesigni lo rendono vivo a coperto il presidente perché almeno non prende questi ragazzi sono fortissimi è la tenda la lotta tutti i combatti adesso vediamo che tutti hanno ripetuto le varie classifiche è un applauso